un po' di riscaldamento ma c'è giù una zona c'è giù una zona ah però c'è giù wow eh sì riscaldamento io seguo qui qua ah 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 tina 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 lascia correre chiudi 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 vai chiudi vai bravo bravo wow Grazie a tutti. Un bel trenino. Sposta bene i pesi e vai via. Grazie a tutti. Giù di qua Michele, giù di qua, su e subito dentro di qua. Sposta bene i pesi che si fa. Bravo, lasciala correre e chiudi subito di là. Bravo, bravo. Vai, perfetto. Buono. La curva qui è bella. Destra-sinistra subito, bella stretta, mi piace. Luigi, vediamo, Luigi il tracciatore della zona. Il diatore della zona. Orca. Orca. Perché vai su sul sasso? Che te la vai a complicare. Scioltezza di giorni. Sciolto. Grande Johnny. Prova, Luigi. Qua, prova a non andare sul sasso con il davanti. Perché è rischioso. Ho visto anch'io prima che stavo sparando là. Se riesci a tenere la ruota sotto, vedi? Bravo, bravo Marco. Di qua? Spalla. Eh, si fa, si fa. Beh, un piede, un piede. Un cazzo da tutti, eh. Bravo. È meglio, no? Buon, lasciala correre, sposta il peso, arca. Un po' in ritardo col peso. Ah, sta giù, grazie. Eh? Ah. Sta giù, grazie. Grazie.